Con l'operazione denominata Piedi di Corvo, la compagnia Carabinieri di Fano, codiuvata dal nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro, il 17 aprile scorso nelle province di Bari, Foggia, Milano e Pesaro Urbino, ha dato esecuzione a sette decreti di perquisizione emessi dal pubblico ministero nei confronti di sei indagati ritenuti responsabili degli assalti a sette postazioni Bancomat sparsi nel territorio provinciale, in particolare Pergola, Cartoceto, Terre Roveresche, Monte Porzio, San Costanzo, Fano e Colle al Metauro. Le indagini dei Carabinieri sono partite a seguito di un ritrovamento di materiale esplosivo nei pressi di un'autorivendita di Lucrezia di Cartoceto, gestita da un giovane di origini bulgare e da un 45enne pugliese di Ortanova, residente da diversi anni a Fano. A seguito di una segnalazione i Carabinieri hanno ritrovato una marmotta svuotata di miscela esplosiva e numerosi arnesi da scasso utilizzati per lo scoppio dello sportello Bancomat, mediante ordigno esplosivo artigianale, in quanto gli assalti erano accomunati dalla stessa tecnica criminale che prevedeva l'inserimento della marmotta all'interno della bocchetta di erogazione del denaro per poi farla esplodere tramite miccia e innesco elettrico. L'ordigno era in grado di distruggere l'ATM e provocare ingenti danni ai vari istituti di credito colpiti, provocando un forte panico tra i residenti. I sistemi di videosorveglianza hanno permesso di documentare che la banda, solitamente composta da 4-5 ladri, agiva in maniera compatta, riuscendo a compiere l'assalto in meno di 3 minuti, dileguandosi con l'ingente bottino a bordo di autorubate. Noi abbiamo fatto con questa operazione un grande dono, direi, alla grande distrettuale di Puglia che adesso inizia a lavorare, perché forse non è stato chiarito che, diciamo così, l'ambito investigativo del nostro territorio è sostanzialmente concluso. Noi avevamo da lavorare su un tot di assalti a Bancomat, individuando i responsabili, eccetera. Lavorando così tanto bene, noi abbiamo anche recuperato tanto materiale per le ulteriori indagini che adesso cominciano in Puglia, nei confronti di tutti gli individui. A seguito di un'accurata perquisizione all'interno dei covi, i malviventi disotterravano alcuni tubi in PVC, dove erano stati occultati sei fucili, tra cui un Kalashnikov ed un'arma di fabbricazione cecoslovacca, insieme a tante altre armi rinvenute. L'indagine, entrata nella prima fase iniziale, assicurato alla giustizia i custodi delle armi, dell'esplosivo e di tutto l'occorrente per le due distinte criminali, restano invece da identificare gli organizzatori e gli esecutori materiali. Voglio ricordare solo che sono state sequestrate delle armi da guerra, quindi AK-47, noto Kalashnikov, quindi altre mitragliette, fucili, quindi c'è tanto materiale da sottoporre a perizia ed è importante capire se siano per caso state utilizzate per altri efferrati delitti.